salve a tutti ragazzi per intornare sul mio canale oggi continueremo a giocare a futu 2017 con l'aggiornamento 17.3 con i trasferimenti di gennaio dipendiamo da dove siamo rimasti mi eravamo rimasti che ho perso la partita con la foggia 3 a 0 purtroppo ragazzi ho perso pazienza non si può sempre vincere non è facile come sembra intanto facciamoci questa partita di pionzo ragazzi allora facciamo giocare benattia a posto di pazza di poi facciamo giocare danni a pesce poi facciamo giocare facciamo giocare rugantino rugano bolucci facciamo giocare per forza bolucci importante per la squadra 93 pjanic pjanic a posto di deminano e vai così ragazzi andiamo avanti con questa partita grazie a tutti pronti ragazzi ma chi sono ancora infortunato ragazzi pronti ragazzi è fatto ottimo gol andiamo avanti velocemente devo assolutamente qualificare con la prima posta dov'è 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 penso più che altro perché a Sivillia sarà un po' difficile ragazzi a Sivillia sarà un po' qualcosa di più difficile però non Grazie. Non era abbastanza angolata. Vabbè alla fine ho fatto lo stesso 2 a 0, però Iguain non mi sa che sta un po' più male. Mi sembra che oggi Iguain è messo in palla ragazzi. Direi che stiamo andando veramente alla grande ragazzi. Mai concedere tanto spalchio. Gli abbiamo regalato un collo o una bugia? Non è già. Ehm. 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 Devo cercare subito. Devo cercare di vincere l'altra partita ragazzi. Ehm. 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 non sarà per niente semplice questa partita. Ehm. 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 va bene a mettere pacelli ragazzi anche se ho perso una partita comunque mi sto rifacendo la grande grazie l'importante è non perdere ragazzi ci fa la sofferenza grazie grazie dai da fare la sostituzione non ce l'hanno più sulle gambe sono tutti sulle gambe lepole 680 quindi mettiamo bombia sonnet 680 670 facciamo Caturano 180 la stavo vincendo mannaggia una partita da dimenticare va bene dai l'ho predominato in possesso di palla chi ti importa cioè che sfiga allora ragazzi io direi che con questo video ci salutiamo qui spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi lasciate il mi piace un saluto da Steffi Gaming ciao ragazzi ciao 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 ciao